1986, l'anno in cui il nostro mondo si è trasformato in cielo. La fiamma atomica, scatenata dai leader dell'est e dell'ovest, come un genie dalla sua bottiglia, ha circondato il globo in pochi minuti e lo ha divorato fino all'unosso. Senza risparmiare né gli innocenti né i colpevoli, senza nominare nessun vincitore della sanguinosa guerra, la fiamma atomica ha distrutto ogni cosa sul suo cammino, comprese le cause del conflitto che ha riportato i sopravvissuti dell'umanità, ai secoli più, di nuovo in uno stato primordiale senza governo, senza tecnologia, senza cultura e senza morale. 2005 sono passati 19 anni dal giorno della grande purificazione, entrambi gli imperi in tempo gloriosi e i loro lealisti ora giacciono in rovina. Tuttavia, in mezzo a queste rovine, nuove civiltà cominceranno ad emergere sopra il sole implacabile. Dal vecchio mondo in rovina, abbandonato e radioattivo, emergono nuovi stati sorrogati, coraggiosi e selvaggi, che si rischiano in una lotta senza fiamma per il diritto di esistere, sul pianeta mutilato e trasformato dalle fiamme dell'Apocalisse. E ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Atom RPG. Vi ho lasciato questa introduzione perché, beh, questo video non vuole tanto mostrarvi il gioco, ma soprattutto pubblicizzarvi la traduzione ad opera del Tiger Team. Questa è una beta, lo dico per chi magari non si guarda il video ma si precipiterà a scrivere nei commenti. La traduzione verrà rilasciata dai Tiger più avanti, al momento in closed beta. Quindi io non ho la possibilità, ma non ho l'autorizzazione di dare traduzione a nessuno, uscirà probabilmente ufficiale. Quindi la troverete all'interno del gioco. Il gioco ha delle recensioni molto positive su Steam e costa veramente pochissimo perché costa 15 euro. Come vedete hanno addirittura doppiato il video introduttivo. Che cos'è Atom RPG? Atom RPG è un gioco che mi ricorda molto, è brutto far confronti con altri titoli, però insomma mi ricorda molto Wasteland. E voglio oltretanto dire che per gli appassionati di giochi di ruolo si prospetta comunque un inverno molto interessante perché questo gioco verrà tradotto a breve, entro qualche settimana uscirà la traduzione, a novembre, dicembre uscirà anche quella di Wasteland 3, quindi quella fatta però ufficialmente. Qua invece, ancora una volta, abbiamo dei team fantastici e ringrazio Dark Legend di RPG Italia per avermi fornito la possibilità di portarvela. Beh, è una moda al momento, poi come vi ho detto diventerà ufficiale. È stato tradotto tutto, quindi non avremo più scuse per non giocare questo titolo. Iniziamo in questo, va bene, mondo post-apocalittico, insomma, Atom, insomma, ci fa capire un pochino quello che è il gioco. Vedete che ci sono tutte le descrizioni tradotte, possiamo andare a creare il nostro personaggio iniziale, in cui possiamo andare a distribuire dei punti. Abbiamo 18 punti abilità, io toglierei, metterei più armi, pistole e mitra, dato che mi è sempre piaciuto una cosa del genere. Facciamo così, facciamo arte oratoria, dove è molto importante, e lo scassinare, così almeno abbiamo qualche punto. Metto destrezza, precisione colpo a colpo, scrivere colpi, scassinamento, un paio di punti lì, e poi magari la resistenza, la forza e l'intelligenza. Attenzione, no? Pozioni di dialogo, sì. Perfetto. Poi abbiamo la selezione del nostro, vabbè, Abdullah non lo chiamiamo, no, io farei questo che mi ricorda molto, non lo so, qualcosa di vintage. Indie, come che ha detto di un'organizzazione segreta Atom, hai seguito un programma di formazione standard e hai ricevuto un'istruzione che dovrebbe tecnicamente assicurare la sopravvivenza. Ok. Abbiamo l'esperienza, il livello, i punti di azione, le particolarità, abbiamo i classici talenti che possiamo prendere, vediamo se abbiamo il cecchino maledetto e tecnofobia, no direi di no, facciamo un qualcosa magari di bambino prodigio, vedete è proprio tradotto proprio tutto, 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 ingegnere per hobby, mi piace molto, da meno 1 attenzione, meno 1 personalità, ma più 20 artigianali autotecnologia, abbiamo scelto i due e si va. Possiamo scegliere la difficoltà? Ah, kit vestiti, militare, errore, ok, e scegliere anche, vedete, con la rotellina che gira, facciamo normale, inizia. Non vedo l'ora, che comunque diventa ufficiale, perché gli sviluppatori tra l'altro quando mi mandarono il gioco, me lo mandarono una vita fa, poi non lo portai mai, mi dissero siamo felici che lo porti, però calcola che al momento non c'è l'italiano, e faccio vabbè, poi ho saputo di questa traduzione, che era in lavorazione, quindi ho preferito aspettare, e appunto l'attesa è stata ben, diciamo, spesa. Hai fatto uno strano sogno, stelle rosse brillavano nel cielo, e funghi giganti si innalzavano verso il cielo, mentre ombre cornute danzavano le immagini di un'antica foresta, all'improvviso cade l'oscurità, le immagini vengono eclissate, mentre si come un fumo impenetrabile, mentre si strofina contro tutto il corpo come un gatto, è rinassante e calmante, prima, ti sta divorando, vabbè, qua sono le opzioni di dialogo, deglutisci un grosso rumo di saliva e ti guardi intorno freneticamente, non vedi nulla di insolito, sei nella caserma per gli agenti che stanno per essere manati sul campo, un uomo in piedi vicino a te sembra preoccupato, incubi, eh, cadetto indi, anche la tempesta di ieri non ti ha svegliato, bene, riposo più che puoi prima della missione, dov'è la missione però? ciò che sono tu, muoviti, chi dovresti essere? agente alf della brigata mangiamiele, il nostro leader ok, che facciamo adesso? innanzitutto procurati del cibo nel tuo sistema, ci sono dei biscotti sul tavolo, ovviamente potrebbe esserci qualche rifuso, qualche termine così, però insomma adesso è in close beta apposta, perché la gente se lo sta giocando e vuole perfezionarla e renderla una traduzione professionale, il Tiger Team traduzioni amatoriali ha sempre fatto dei lavori magistrali, quindi direi che si può stare tranquillamente in attesa ma già va più tardi, andiamo direttamente alla riunione, sei sicuro? sono sicuro, fine del tutorial, va bene, dai andiamo entrambe andate fuori, dirigete verso il punto principale di Atom, dovrete imparare presto i dettagli della vostra missione, ascolta il briefing, ok, ah un altro video molto interessante Doppiato anche questo, fantastico questa voce un po' sullo stile enigmista mi piace tantissimo no, c'è proprio passione in tutto quello che fanno comunque e il fatto che comunque ci sia un altro gioco del genere giocabile adesso finalmente senza dover stare lì con traduttore, dizionario, comunque stare lì anche solo in capire è una grande cosa per gli appassionati di giochi di ruolo come me è un po' sullo stile anche Fallout come ambientazione, come lo è anche Wasteland quindi insomma, questo è un gioco già un po' più datato perché comunque Wasteland 3 è di qualche anno fa scusate, Wasteland 3 è di quest'anno, questo è già di qualche anno fa però se ne è sempre parlato bene, infatti mi è sempre dispiaciuto non ho mai voluto iniziare a giocarlo in inglese perché soprattutto dopo aver saputo della traduzione io adesso onestamente salterei perché così andiamo un po' di gameplay vediamo un attimino come funziona graficamente non è anche malissimo mi chiedo cosa sia successo alla spedizione voglio vedere almeno un combattimento così che magari poi troviamo due conclusioni giusto sul titolo ma questo è uno di quei video in cui voglio solo dirvi della traduzione perché poi il gioco ve lo scoprite insomma se vi piace, l'avete già notato sicuramente se siete degli appassionati di giochi di ruolo allora, un uomo di mezza età trentenne di mezza età trentenne? beh, vabbè anch'io sono uno di mezza età no, scherzo, vabbè comunque questo video serve anche appunto magari a sottolineare qualche controsenso è vestito con un uniforme cacchi ammuffita che deve essere un tipo di colore bene, bene, bene cosa abbiamo qui? spero di non vi disturbati, compagno l'uomo si ferma davanti a te e si stofina le mani come per scaldarsi per sforgiare una formidabile set di tirapugni sulla mano sinistra sei un turista amico bello a tendere ok l'uomo fischia tutta l'attrezzatura ok la faccia dell'ostrano si spezza in un sorriso inquietante sai, i miei amici potremmo aiutarti beh, non gratuitamente per un pezzo molto ragionevole ascolta, sono d'accordo con la condizione ok lasciami stare non ti sforzare Novellino non ti faremo del male vogliamo solo navigare tra le tue cose per un secondo chissà che forse prenderemo tutto si combatte si combatte abbiamo solo i pugni ah quindi ci hanno già stesi si sono già presi oh la mia testa con gli stronti che hanno derubato forse hanno lasciato qualcosa vediamo vediamo intanto si cammina no, è molto bello il modo di camminare comunque perché non è troppo legnoso come pensavo con Varsd ci si muove con la visuale si sembra più il Wasteland 2 come stile mirato pugno mirato si perché spendiamo un punto azione in più per mirare abbiamo una borraccia vuota va bene intanto la muoviamo dai andiamo intanto ci muoviamo qui vediamo se se c'è qualcosa che si può prendere insomma ci sarà un tasto ah no la probabilità no qua non c'è nulla abbiamo la la mappa in cui possiamo andare no non possiamo andare di là è proprio circoscritto tutto qua si può ruotare la visuale ovviamente qua in alto abbiamo l'elenco delle cose da fare la possibilità di riposare per recuperare vita insomma e qua abbiamo la scheda del nostro personaggio con le cose che sappiamo fare o che non sappiamo fare si va di qua si va di qua si va di qua bisogna andare di ci hanno derubato di tutto ho scelto un'opzione un po' troppo addita nel dialogo oh un altro video siamo già tra i video il video iniziale il video lì della presentazione è questo quindi già qui abbiamo un altro tipo di immersività anche perché il video qui rende proprio l'idea dell'ambientazione dove ci troviamo hot par russo è notte vediamo ci sono dei tizi là davanti c'è un accampamento ci avviciniamo furtivamente magari non lo so vediamo ah non ci avviciniamo furtivamente ci avviciniamo al tizio quindi parliamo fermo chi c'è diffrontato a un uomo di 30 anni ben robusto vestito con la chiesa caminità ma non mi piacere affabile va bene ciao anche a te l'uomo tossiccio sputta sputta l'erba mi piace riconoscere il mio nome è Yan sto cercando qualcuno qualcuno che vive qui non proprio volevo fare alcune domande ok tupa militare l'hai vista è passata l'intera squadra tipi molto seri belle armi brutti atteggiamenti specie di uniformi ok hanno convertto un protaco si sono riposati per un giorno e poi sono andati prende la mappa mi indica ok non è troppo lontano grazie devo pensarci un po' se ho tempo certo ok ci ha segnato probabilmente sulla mappa la zona vabbè molto molto interessante abbiamo un piccione cosa è una gallina si poi adesso non voglio perdermi via perché il gioco adesso io vi porto questo discorso nella traduzione poi magari vado a provarlo un po' più in profondità posso fare qualche domanda tira su col naso come va la vita perché me lo chiedi sono solo curioso abbastanza povere niente soldi posso fare un'altra domanda hai sentito qualche voce ci sono strane creature che nidificano nel villaggio qualcuno ha davvero bisogno di calpestarle ma fino ad allora se non apprezzi troppo la tua vita puoi passare attraverso quel cancello e raccogliere funghi che tipo di funghi famoso per i suoi funghi il villaggio ok meglio che vada ok no mi ha detto che mi ha segnato sulla mappa dove erano andati questi tizi ma io onestamente non non saprei dove andare ah di qua ok qua si accede alla mappa esterna vediamo magari andiamo là e gli feriamo tutto c'è anche questo tasto qui che apre invece il menu dove abbiamo le varie impostazioni vedete anche di essere tutte tradotte vediamo un po' ok questa è un po' la mappa modello modello wasteland possiamo fare il falò abbiamo anche il livello di fame molto bene ma c'è un accampamento più in là forse vediamo non so bene se no ti trovi vagabondi in piedi intorno a un falò controlla vediamo un po' anche perché non abbiamo armi quindi buongiorno nuova mezza età è l'aspetto serio è ben rasato è una calvizia quasi del tutto nascosto dei braffi curati ti guarda con una rabbia ehi tu plebeo sei di qua sputtare ok non d'è posto al diavolo posso fare un paio di domande? cos'è successo qui? io uomo eco intelligente sono rimasto bloccato con questi due cimpanzee cos'è successo qui? sono stato invitato a un incontro a camera di commercio ok dato che cerco di far crescere la mia attività in tutti i modi possibile ho accettato cioè andate voi a tradurre una roba del genere in inglese grazie a traduzione ho indossato i miei vestiti migliori ho imballato i campioni del mio mea ci ho soldato una guida mi sono portato che cacchio ti è successo? poi siamo finiti in questo ok e poi cosa? poi c'era la strada pernotato una donna a posto vive solo col suo gatto hanno dormito una vera regina nella sua vecchia stazione di benzina ci ha raccontato una storia sul verme della pelle su come prende in mira le persone che viaggiano sole e vi ha fregati insomma e poi cosa è successo? la mattina abbiamo ripreso il nostro viaggio siamo arrivati saremmo arrivati a carasno zamenni entro mezzogiorno se non fosse stato per la dannata nebbia boys è un asso della guida ma non riusciva a vedere niente siamo andati a sbattere contro un albero e siamo finiti in alfalude ok 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 siamo rampiccati ah boys aveva la testa incastrata nel parabrezza ok si va bene racconto molto macabro e poi poi abbiamo visto ok siamo arrivati qui va bene io intanto salto per discorso spoiler posso aiutarti? davvero? va bene dovrei andare non vi posso portare via nulla quindi me ne andrei io arrivederci eh no dobbiamo andare a cercare quei tizi lì per poter combattere vediamo se c'è qualcosa lì c'è qualcosa qui entra vediamo molto interessante questo è e abbiamo anche una barraccia vuota quindi non è che possiamo ah c'è qualcuno lì ok vediamo se ci fa entrare tanto se sto noto sto viaggiando ho investito in questo posto sei viaggiatore eh voglio solo parlare un po' incrociare le braccia parlami di questa vecchia fabbrica mattoni penso e io pensavo fosse solo un banco di banditi ah prendono gli utili dai sempliciotti locali spendiamo soldi per proteggerli la cosa mi puzza bene vai a trovare un medico e fatti controllo del naso perché quello che hai detto che ho detto era la verità ma vabbè meglio che vada posso entrare? no eh si si è inceppata l'arma proviamola dai come cosa pugno su di lui ma scusa eh scusa ma ok ci muoviamo qui e gli tiriamo un pugno ok bella questa cosa del che si rimane diciamo su questa visuale qui ma con i quadretti sotto passiamo il turno ti sei inceppata l'arma ciccio adesso ci penso io io voglio farti un colpo mirato posso? si 99% ah ok voglio colpirti voglio colpirti alle braccia no qual è la cosa? al torso no alle braccia dai voglio colpirti ok ok oh cacchio bello mi piace perché è realistico cioè mi ha sparato e sono morto niente poi qua si può continuare insomma all of fame no e sono e non sono i migliori giocatori insomma al momento come vi dicevo la la traduzione è una mod ma sono in contatto con gli sviluppatori quindi la introdurranno come eh lingua ufficiale io ringrazio ancora il Tiger Team per la traduzione in anteprima per comunque potervela pubblicizzare poter pubblicizzare la loro pagina facebook la trovate come Tiger gruppo traduzione ematoriale su facebook appunto eh poi vabbè qua sotto poi commenteranno anche loro se hanno necessità di mettere qualche link eh glielo lo troverete diciamo in evidenza nei commenti ringrazio anche voi per la visione lasciatemi i commenti qua sotto se ovviamente questa idea vi è piaciuta questa traduzione la gradite se aspettavate appunto l'italiano in questo gioco che sembra essere molto bello ma non ho voluto neanche informarmi troppo perché poi me lo voglio giocare con calma e e godermelo bene eh quindi vi ho messo diciamo così come si dice la pulce nell'orecchio fatemi sapere questo dato nei commenti alla prossima e ciao ciao ciao